Ti senti bene a chiamare a puttana una persona che nemmeno conosci? Sì! 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 No! Sì! 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 Ehi! Sì! 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 Io sono scioccata veramente dalle persone Che schifo, fate schifo veramente Che cosa ho visto? E se facessero fuori Blur? Magari, chi sarebbe triste? Chi sarebbe arrabbiato? Chi sarebbe scioccato? Chi sarebbe depresso? Chi non accetterebbe la sua morte? Ma voglio aggiungerne un'altra Vendetta! Quando Blur rimane da solo con una 0-9 Lo tiriamo fuori insieme? Ok? E se... Ma basta! E se uccidessero Ciccio Gamer? Chi sarebbe triste? Il giocherigno Il giocherigno è in uno dei suoi 93 video dove piange Chi sarebbe arrabbiato? Chi sarebbe scioccato? Chi sarebbe depresso? Non so chi sia... Chi non accetterebbe la sua morte? Grazie Lo vorrei aggiungere un altro Vendetta Quel genere Qua glipa che ho scritto Che ho scritto